In questo anno e mezzo di pandemia, tante domande che di solito ci poniamo sono sorte nel nostro cuore con particolare forza e non sono domande secondarie, sono domande di rilievo per la nostra vita, per la nostra vita di credenti, di cristiani, la domanda su chi è Dio, perché permette la sofferenza, cosa significa che è creatore del cielo e della terra, cosa vuol dire la Chiesa quando afferma che siamo salvati da Gesù, che cosa significa che lo Spirito Santo opera, rende viva tutta la realtà e che cos'è la Chiesa e soprattutto cosa intendiamo dire quando diciamo credo la vita eterna, la risurrezione della carne, insomma che senso ha il credo? Le diocesi di Modena, Nonantola e Carpi propongono un piccolo percorso di approfondimento del credo, proprio come tentativo di andare incontro alle domande che si sono depositate nel nostro cuore, una proposta che verrà avanzata attraverso una maniera, possiamo dire, fantasiosa, facendo ricorso all'arte, alla poesia, al canto, oltre che naturalmente alla teologia. Vi invito quindi a prendere contatti con la vostra parrocchia per poter avere maggiori informazioni e spero anche per potervi iscrivere e partecipare a questo percorso. Dopo diremo con maggiore consapevolezza, anche nel momento della Messa, il credo. Grazie per la visione!